Salusa 1 agosto 2011. La porta dei cambiamenti si sta spalancando, e state cominciando a capire che non è più possibile ritornare ai vecchi sistemi. È più evidente, che mai che una civiltà sul punto di ascendere, deve raggiungere un nuovo livello di vibrazione. La luce vi invita ad elevarvi e lasciarvi alle spalle tutto quanto non vi è più utile per raggiungere il vostro obiettivo. È fin troppo chiaro, che i vecchi sistemi hanno fallito e non per colpa vostra, perché individualmente non avevate alcun potere, hanno fallito per via di un apparato finanziario, che consentiva di concentrare un'enorme ricchezza nelle mani di pochi. Si stanno facendo alcune mosse che forse presto consentiranno di iniziare a correggere tale situazione, dando vita ad un sistema finanziario del tutto nuovo. Un sistema equo e adeguato e che protegga il vostro denaro da tasse e leggi inico e tutto è pronto per la sua entrata in vigore, che non tarderà molto. Infatti, potete esser certi, che i prossimi mesi saranno molto interessanti. Il caos continua e la gente chiede risposte e azioni, che i governi non sembrano in grado di dare, perché si ostinano a rattoppare con vecchi metodi un sistema ormai a pezzi e irreparabile. Non hanno idea di come cavarsela ed è giunto il momento di avere nuovi governi. Anche questo è sulla buona strada e, sebbene non abbiate visto ancora azioni in tal senso, non tarderanno molto. Per anni abbiamo a poco a poco preparato i nostri piani, che si svilupperanno tanto rapidamente, che sarete sbalorditi nel vedere quanto velocemente tutto andrà a posto. Siete delle anime molto speciali che, avendo completato il periodo nella dualità, hanno diritto ad un enorme balzo, che vi farà raggiungere le vibrazioni superiori. Con l'11 novembre 11 ormai molto vicino, capirete che si tratta di un'occasione unica in cui farete l'esperienza di un'elevazione improvvisa. Verificando i vostri livelli di coscienza, osserviamo che quest'anno c'è stato un aumento sensazionale, che mostra la vostra capacità di meglio gestire le vibrazioni inferiori, in vero, diventando molto più abili nel concentrarvi sulla Luce, non siete più da esse influenzati. In realtà, ora state spargendo la Luce consapevolmente, aiutando altre anime ad elevarsi. Il solo fatto di essere in presenza di altre persone, basta a produrre su di loro un'impressione positiva. Inoltre, molti bambini indaco sono ora abbastanza grandi da usare i loro talenti e posseggono tantissima saggezza da condividere. Comunque sia, anime tanto avanzate raramente parlano delle proprie capacità, ma eseguono il loro lavoro senza quasi farsi notare. Molti di loro hanno un ruolo importante da svolgere nell'immediato futuro e la loro capacità di dirigere sarà molto apprezzata. Ovviamente, anche noi della Federazione Galattica abbiamo un ruolo importante da svolgere nel prossimo futuro, ed ora sembra esserci un consenso generale sulla nostra esistenza. Questo è di vitale importanza per il vostro successo ed è nostra responsabilità garantire che chi desidera partecipare all'ascensione, sia pronto in tempo. Il rischio, che ciò non avvenga è assai limitato, perché persino noi facciamo a nostra volta parte di una confederazione ancor più grande, all'occorrenza disponibile. I vostri oscuri possono illudersi di impedire i nostri progressi ma, francamente, non hanno la minima idea di chi hanno di fronte. La nostra tecnologia superiore è in grado di bloccare le loro manovre e non c'è assolutamente null'altro da prevedere se non la vittoria della luce. Noi ci riuniamo regolarmente in grandi convegni per discutere la vostra posizione adeguando, se necessario, i nostri piani. Anche se è occorso parecchio tempo per giungere a questo punto, c'è soddisfazione generale riguardo ai progetti previsti per il vostro avanzamento. Proprio ora stanno accadendo molte cose e gli oscuri cominciano a stancarsi di non riuscire a marcare vittoria. Mentre una volta si sentivano invincibili, per molti versi sono stati gli architetti della loro rovina. I loro prevedibili complotti come quello dell'11 settembre, hanno mostrato tutta la loro arroganza e disprezzo della vita umana e incredibile, che potessero veramente pensare che le loro menzogne e tentativi di copertura avrebbero fuorviato professionisti in grado di comprendere l'inganno. Ora resta solo da intraprendere un'azione giudiziaria contro gli illuminati per cacciarli dalle loro posizioni di potere. Questo avverrà e i piani dei nostri alleati sono già ben avviati in tal senso. Abbiamo iniziato il nostro progetto di abituare quanta più gente ad osservarci nei vostri cieli. Ciò significa un maggior numero di sorvoli, concentrati in settori dove non eravamo stati avvistati di frequente. Talvolta accade che quasi non venne meravigliate più, tanto i nostri velivoli vi sono ormai familiari. Siamo ora molto meglio accettati quali visitatori amichevoli della vostra terra e ben raramente si riscontrano manifestazioni di percepibile paura. Date le campagne intese a dipingerci come diabolici alieni, si tratta di un risultato molto importante, il cui credito è da attribuire a quelli come voi, che lavorano per ristabilire l'equilibro. È molto importante che, sentendo parlare dei grigi, la gente tenga a mente che costoro non appartengono alla Federazione Galattica. Essi sono venuti sulla Terra su invito degli Stati Uniti, che da molti anni lavorano con loro in cambio di tecnologie. Anche noi arriveremo sulla Terra su invito, perché abbiamo parlato con il vostro Presidente, e la necessità di fare avanzare il piano per l'ascensione è stata compresa ed accettata. Noi saremo chiari sulle nostre intenzioni e saprete esattamente cosa stiamo facendo nei vostri riguardi. Infatti, parleremo alla Nazione affinché si sappia, e sarà ben compreso, perché siamo venuti. Avremo la copertura mediatica e un giornalismo libero da censura potrà informare in modo veritiero. A riguardo, siete tuttora completamente nelle mani degli Illuminati, che continuano a controllare quasi tutte le agenzie stampa. Siete stati ingannati, vi hanno mentito e preso in giro per tantissimi anni, ma in futuro avrete un governo onesto e un'informazione onesta, che ripristineranno la vostra fiducia nella libertà di parola. Io sono il Siriano Salusa e sono felice di queste opportunità per svegliarvi alla verità. Finora abbiamo appena scalfito la superficie della vostra vera storia sarà certamente una grossa sorpresa. Non dimenticate che gli Oscuri hanno dominato la Terra per migliaia di anni, costruendo progressivamente il controllo della sua popolazione e delle sue ricchezze. Nei cicli passati, provocarono catastrofiche distruzioni in cui intere civiltà perirono. Questo non accadrà più, parola del Creatore. Grazie, Salusa. Mike Quinsey .